Don Giuseppe Inviato Speciale Don Giuseppe Gervasini, El Pré de Rataná, 1867-1941, risponde, per via medianica, sui temi più importanti dell'esistenza, prima e dopo la morte, a cura di Luciana Petruccelli. I libri del Cassato A conclusione di questa seconda parte, ecco anche la conclusione di una vita, quella di Don Giuseppe, nella descrizione che ci ha dato dalle sue ultime ore, rispondendo a una precisa domanda. S. Desidererei chiederti, sempre che tu lo possa dire, quali sono stati i tuoi ultimi pensieri, se ti sei reso conto che stavi per lasciare il nostro mondo e se hai avuto paura. Penso che anche chi è preparato abbia un po' paura di questo salto che presenta tante incognite. Don Giuseppe Ognuno affronta quel momento in maniera diversa. Io sono passato a vita migliore dopo una malattia lunga che mi aveva indebolito con intorno al mio letto delle persone che mi volevano bene, che mi erano state affezionate e fedeli nella vita, seguendomi anche nei momenti meno felici. Gli ultimi miei momenti non sono stati particolarmente agitati per paura perché ero preparato all'idea della morte dalla lunga malattia e poi perché a quel tempo, anche se non era permesso parlare di spiriti o comunicare con gli spiriti, io avevo le mie chiacchiere quotidiane o quasi con il mondo dello spirito. Quindi io avevo saputo in anticipo che di lì a poco sarei partito e di fatti lo avevo detto alle persone che mi stavano vicino. Vi erano gli amici e soprattutto un amico che non era un sacerdote ma era una persona molto in vista a Milano a quel tempo che veniva spesso a trovarmi nascostamente per mia volontà. A loro avevo confidato che la mia fine era vicina. Io sapevo perché mi era stato detto quindi io aspettavo quel momento abbastanza sereno e tranquillo perché sapevo che dall'altra parte c'era veramente una vita nuova perché io parlavo con quelli che già là vivevano quella vita e morivo con la sicurezza che la morte non è la fine ma è soltanto il passaggio attraverso una porta che ci permette di andare verso un'altra vita. E allora quest'ultimo giorno io cercavo di pensare al passo attraverso quella porta. intorno avevo gente che continuava a volermi far bere a sentire come stavo e questo se devo dire la verità mi dava un poco di fastidio. Da una parte era piacevole l'interesse che mi dimostravano dall'altra io ero già abbastanza fuori del mondo. Il momento estremo del trapasso non l'ho vissuto con cognizione e con ricordo così come avviene a quasi tutti gli uomini. A un certo momento ho avuto tanto sonno ho avuto voglia di chiudere gli occhi e ho capito che era l'ultima volta che potevo salutare. Ho salutato così le persone che mi stavano vicino le ho benedette con il potere mio sacerdotale ho chiuso gli occhi e in cuor mio ho pensato che avevo voglia di dormire e sono passato a nuova vita. Insomma io ho avvarcato la porta con tanta tranquillità perché tutti quelli che mi seguivano da tempo e mi aiutavano bontà loro parlo degli spiriti erano più o meno intorno a me quindi io non ho avuto paura del momento in cui uno non sa dove si trova io lo sapevo perciò ho deciso di dormire e dopo non so quanto tempo è passato perché non si può sapere e non si è in grado di calcolare questo tempo mi sono accorto che ero da un'altra parte che non avevo più un corpo e stavo con quelli che già conoscevo da lungo tempo e con i quali avevo anche parlato da lungo tempo insomma sapevo che ero nel mondo spirituale che stavo meglio ma non era una novità perché ero preparato a questo ebbene allora ho sentito quello che mi dovevano dire mi hanno salutato con entusiasmo gli spiriti che mi seguivano da prima ho visto che ero rimpianto da quelli che avevo lasciato sulla terra ho visto e questa è un'indiscrezione che tanti preti correvano sollevati perché io finalmente avevo smesso di dare problemi tutti i partecipanti ridono mi sono divertito sapendo che loro avevano torto e di ho ragione e mi sono avviato per la mia strada la mia strada è stata che dopo aver visto con visione veloce tutte le azioni della mia vita ed essermi vergognato perché ho peccato anch'io e molto anche se in buona fede ma avevo la parola facile e allora qualche volta ho offeso e mi sono pentito e qualche volta sono stato duro troppo duro e mi sono pentito e dopo mi sono addormentato per me è stato un riposo che non devo definire lungo direi piuttosto breve perché ho cominciato presto poi di nuovo a lavorare da questa parte ma il riposo mi è servito per valutare e intanto per far riposare il mio spirito che ne aveva bisogno e poi piano piano c'è stato l'avvio della valutazione di quelli che erano stati i miei difetti ed è iniziato il pentimento che tutti abbiamo ma grazie alla bontà infinita come si usa dire tutto è stato relativamente breve per me e mi hanno rimesso al lavoro presto e sto lavorando ancora adesso e con piacere a dire il vero adesso la vita spirituale devo dire è molto 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 migliore di quella corporale non vi è paragone anche se volessi cercare un esempio per meglio farvi intendere la vita qui è certamente più laboriosa ma anche apporta molte più conoscenze e certo io ho fatto molte più esperienze qui di quando avevo il corpo e spero che se un giorno avrò di nuovo un corpo possa io fare esperienze non violente perché adesso da spirito proprio per il mio compito particolare sono tanto ostile alla violenza e quindi questo mi serva per avere una vita più serena magari ancora da prete magari no ma quantomeno più tranquilla della mia vita ultima che è stata un po' movimentata che è stata